Ups a tutti, mi cari upsini, upsine, come state? Spero veramente bene, oggi vi sento proprio felice di essere qui insieme a voi e di registrare questo nuovissimo video. Che video sarà? Molto semplice, molto spontaneo, ma secondo me super rilassante. Ripeterò un po' di parole rilassanti che penserò adesso sul momento. Farò il tracing di questa parola un po' col dito, un po' con la pacchetta. E niente, ci rilasseremo insieme così. Quindi indosso un paio di cuffiette auricolari, stenditi sul tuo letto a cerca di sfruttare. Chiedo scusa se sentite un po' la voce come se avessi il naso da pado, ma ho una lupa da pado. Ok. Allora. Allora. Pensiamo prima parola. Porta pè. 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 Facciamo la B, la O, la R, T, A, B, E, 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 E. Spero di averle fatte dritte le lettere. Porta B, 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 porta B. Ok, guardo un po' in giro per trovare la parola. Tepperino, 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 tepperino. T, E, M, B, E, S, E, E, O. Tepperino, 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 tepperino. Pensiamo, pensiamo. Piantina, piantina. Piantina, piantina, piantina. Piantina, piantina, piantina. Piantina, piantina, piantina. Piantina, piantina, piantina. Pro con la panchetta Voi mi sentite, mi vedete bene? Ok, dai, allora Facciamo una P I A E D I E A Pian Pian Una bella Pian Pian Ok Ok Crema 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 C E E M A Crema 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 Canti Capila 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 Vediamo un po' questo pezzellino che ho preso Capila 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 Facciamo il tracing delle lettere C A M D D E L A Adesso come minimo sarà divertentissimo se in una parola, per esempio, dimentico una lettera Capila 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 famosissima, però è veramente rilassata Pronti per il dressing? Venga, allora, D, R, O, D, O, L, A Trottola, trottola, trottola Scusate, oggi proprio ci addormentiamo insieme Trottola, trottola Sarebbe troppo dico fare un video tipo ASMR finché la mia addormenta Un giorno magari lo farò anche solo per provare Trottola, trottola, trottola Ok, adesso Parattola, 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 parattola prendo la panchetta P A E A T T O N O Paratlo 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 Adoro il tapping sul telefono, comunque si adesso vi ho appena visto, attualmente sono le 3 e 27 di notte, sono qui, mi chiamano me lì, le lezioni, le so, però, guarda, però dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare altre parole, crostata, 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 G, R, O, a, d, a, crostata, e siamo al terzo di oggi crostata crostato 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 spero che questa mia maglietta non abbia fatto un po' di vent con le luci il colore arancione mi piace tantissimo di video spero che sia un bel video pure questo bloc bloc blocco bloc bloc blocco bloc bloqu bloc blocco 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 diciamo blocco, 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 blocco blocco poi allora P L O G O blocco 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 ok andiamo avanti proprio a prima di arrivare qualche parlosa rosa 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 o rosa 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 cochi 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 Prendiamo la bacchetta, facciamo anche qua un po' di spelling. G, O, N, G, H, I, G, N, I, A, cochina. Io vorrei veramente vedere se i miei capelli vanno sopra, però magari non li vedete. Allora andiamo avanti. Maione, 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 maione. Maione, maione, maione. M, A, G, L, I, O, N, E. Maione, 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 maione. Come vedete sto pensando parole così a casa, però come vedete adesso è giunto il momento di salutarci. Adesso tocca a voi, tocca solo solo a voi. Iscrivetevi al canale col tasto rosso qua sotto nel caso non l'aveste ancora fatto. Se avete voglia di supportarlo lasciate un piace se il video vi è piaciuto e commentate cosa importantissima con tutto quello che vi passo per la testa. Che io poi vi metto il coricino. Il video di oggi finisce qui e io ti lascio qua il mio video precedente. Qua una mia playlist e qua in basso il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video voi vogliate. È uscito da poco un video bloopers, perciò se siete amanti di bloopers e ve lo siete perso andate a vedere, lo mi fa veramente ridere. Detto ciò vi mando un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Buonanotte. 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 Buonanotte.